Amico, è arrivato il dipinto, è becchissimo! Oh, sono io quell'angioletto! Con la chitarra! Ma lasciamo stare il dipinto per ora. La priorità sono i... Tunnel! Tunnel! Date un'occhiata. Oh, wow! Che hanno di speciale i tunnel? Va fuori, esci se devi rovinare tutto! Ma stavo solo chiedendo... Volevamo prendere il dipinto, no? Ma quando ho cercato di piantare il chiodo, si è aperto questo buco nel muro e... Tunnel! Wow! E dove porta? La domanda a Henry è... Dove porta? È quello che ha chiesto! E stai a due, amico! Suosa sta indagando per capirlo. Ha inviato un drone a mappare la zona. Wow! Ci sono più tunnel di quanto pensassi. Fate attenzione, il drone sta rientrando! Brava, ragazza! Io credo sia su Elvin. E sono tre! Dov'è il martello? No, fermo! Jasper ha ragione! I tunnel attraversano tutto il sottosuolo di Suelvio. Due e mezzo. Non esiste il mezzo fallo. E sei di nuovo a tre, capo. Uno ancora e te ne vai dritto in panchina. Che sport è questo? Questi tunnel passano sotto casa mia, la scuola. Tutti e quattordici in accio a bollo. Chi li ha costruiti? La domanda è, chi li ha costruiti? E la risposta è... A me non interessa, prendiamo il tunnel per quel cavolo di nacho a bollo! Sì, andiamo! Aspettate, aspettate! Cosa, cosa? Ragazzi, stiamo entrando in un tunnel. Non sappiamo chi l'ha costruito o chi potrebbe esserci lì dentro. Insomma, dov'è Charlotte? Se fosse qui, incrocerebbe le braccia e direbbe... Lo saprei, ragazzi. Ragazzi, questi tunnel portano dritti al nacho a bollo! Muovetevi! Oh, direbbe questo. Spostati! Ci deve essere stata una gran folla di nani qui un tempo. Pensavo la stessa cosa. Quest'aria sotterranea mi fa bene alla pelle. Sì, sai che stavo per dirlo? Ti trovo bene. Lo so. Mi sbagliavo su questo tunnel. Ti sbagliavi di grosso. Lo so, mi sbagliavo. Arrivi in un attimo in tutti i posti che vuoi se passi per un tunnel. Già! Sulla superficie non saremmo potuti andare al nacho bollo, a Luna Park di Suelvio, al cinema e infine a un altro nacho bollo. E inoltre, Ray ha votato. Due volte. Nelle stesse elezioni. E non è neanche mezzogiorno. Dovremmo smettere di chiamarli tunnel e cominciare a chiamarli turnel. Dico bene, perché ci fa il tour di tutta la città. Ragazzi? Quello che so è che questi tunnel hanno soltanto pro e nessun contro. Nessuno. Neanche uno. Ragazzi! Uomini Talpa! Credo che abbiamo un contro. Sembra un mucchio di uomini Talpa. È un mucchio di uomini Talpa. Gli stessi che hanno distrutto la mencaverna. Sì, ma quello era un uomo Talpa. Questi sono un mucchio di uomini Talpa. Gli uomini Talpa sono dappertutto! Senti, non mi piace per niente quel verso. Mia madre diceva sempre che se non mangiavo arrivavano gli uomini Talpa nella mia stanza. È vero, è così. Sentite! Veramente? Sentite, non mi importa di cosa accade nella camera di Jasper. Quello che mi interessa è che voi uomini Talpa siete nel nostro tunnel. Uscite subito di qui! Nel vostro tunnel? Già. I padri Talpa hanno scavato questo tunnel secoli fa! Beh, noi li abbiamo trovati ore fa, quindi adesso sono i nostri. Perché è così che funziona in America? E se non volessimo, che cosa credi di fare, Jennifer Toppets? Potrei dirtelo, ma preferisco lasciarti all'oscura! Basta colpirmi! Scusa, la tua faccia sembra quella di una Talpa al buio. Torgiti di mezzo! Qual è il tuo problema? Ho paura del buio.